Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Ragazzi, oggi volevo parlarvi di sei integratori che possono essere inseriti in un contesto di caduta di capelli che sia fisiologica, ma soprattutto quando parliamo di caduta di capelli cronica, quindi guarda fattori androgenetici. Questa, secondo me, è una delle migliori integrazioni che possiamo trovare attualmente sull'integrazione che io adesso vi andrò a proporre, ad elencare per ogni singolo prodotto. Sono integratori assolutamente naturali, che troviamo anche nei supermercati ben forniti, negozi di integratori. In commercio ne esistono di svariati prodotti. Sono tanti e di diverso tipo. Nella mia esperienza e nell'esperienza anche fatta da altre persone, ritengo che attualmente questa integrazione sia tra le migliori che trovo. Adesso vi farò vedere ogni singolo integratore, spiegherò la sua utilità. Vi ricordo sempre che in basso in descrizione vi lascerò il link per ogni singolo prodotto nel caso in cui volete acquistarli. vi ricordo che una corretta alimentazione fatta a regola d'arte, che cosa intendo per una corretta alimentazione? Un'alimentazione che sia completa, parliamo di carboidrati, di vitamine, di minerali e di proteine e anche di grassi. Vi lascio agli integratori. Vi ricordo sempre di iscrivervi al mio canale e di lasciarmi un like. Ciao a tutti e grazie. La biotina è un coenzima che appartiene al gruppo delle vitamine B. Ne ritroviamo nei cavolfiori, nelle carote, spinaci, funghi, formaggi, uova, fagioli, pesce, carni bianche e carni rosse. La biotina, in combinazione con lo zinco, risulta molto utile nel trattamento di alopecia. È di caduta precoce dei capelli e della barba. Perché ne aiuta la crescita e l'infoltimento. È una valida alternativa naturale alle fiale anticaduta, migliora inoltre la fragilità e lo spessore delle unghie. Il tè verde, oltre a limitare la caduta dei capelli, rinforza il fusso, dona lucentezza, ci aiuta quindi ad avere una chioma più folta e luminosa. Il tè verde è di aiuto anche per equilibrare la secrezione del sebo a livello del cuoio capelluto, depurandolo. Applements Air è un prodotto innovativo. Appartiene alla vasta categoria degli integratori anticaduta per capelli. La sua azione anticaduta è incentrata principalmente sull'azione della procianidina, che secondo studi preliminari sembra in grado di promuovere la fase anagen del capello, ossia la fase di crescita, e di protrarne la durata. Applements è indicato per contrastare l'eccessiva caduta dei capelli, sia nell'uomo che nella donna. Può essere assunto in presenza di calvizia comune o allopecia androgenetica, per arrestare la progressione e favorire la crescita di nuovi capelli. La Serenoa Ravens rappresenta una valida alternativa naturale alla finasteride. Utilizzata sotto forma di estratto contenuto in diverse tipologie di integratori alimentari, vanta quindi specifiche proprietà benefiche, per contrastare il diradamento e l'assottigliamento dei capelli. La pianta infatti riesce ad impedire la conversione del testosterone in DHT, ostacolando la produzione di questa sostanza, che provoca una progressiva miniaturizzazione dei capelli, generando il diradamento e la calvizie. La Serenoa inoltre viene considerata una sorta di finasteride naturale, agendo come il noto farmaco utilizzato spesso in caso di allopecia androgenetica. I radici contribuiscono a mantenere in salute pelle e capelli. Sono acidi grassi essenziali, utili per garantire l'integrità funzionale e strutturale della pelle e dei capelli. I lipidi infatti permettono la crescita delle cellule di pelle, unghie e capelli. I cheratinoiti, rendendo le unghie e capelli più robusti e la cute più idratata, più sana e più giovane. L'MSM, chiamato anche il minerale della bellezza, partecipa alla formazione della cheratina e del collagene. Sono elementi indispensabili per avere unghie forti e capelli splendenti. In entrambi i casi aiuta a rinforzarli, per cui è utile per tutti coloro che hanno unghie e capelli fragili, che si spezzano facilmente. Inoltre l'MSM contribuisce a velocizzare la crescita del cliente.